Oroscopo settimanale dal 5 all'11 giugno 2023 Ariete Amore Sarà una settimana molto buona e per quasi tutto il tempo potrete contare su un ottimo aspetto per la passione e i sentimenti. Anche per i single non si escludono delle belle sorprese per l'amore. Sarà comunque importante cercare di pensare a se stessi e non solo agli altri. Ritagliarsi un po' di tempo sarà importante. Lavoro Un periodo in cui vi state impegnando, soprattutto con i progetti professionali che avete già pensato o addirittura intrapreso. Per questo motivo potrebbero arrivare dei risultati interessanti. D'altronde le stelle saranno in una posizione molto fortunata. Toro Amore Le giornate saranno piacevoli e la vostra vita amorosa potrebbe davvero spiccare il volo. Sarà un momento intenso da godere insieme alla vostra dolce metà. Ci saranno tante soddisfazioni sentimentali, ma non solo con il vostro partner. Pure i single potrebbero avere delle nuove occasioni e fare una conoscenza decisamente buona. Lavoro Gli impegni non mancheranno e nemmeno le nuove occasioni professionali e di guadagno. Dovrete dare il massimo, ma non incessantemente perché le energie finiranno prima o poi. Invece sarebbe il caso di fermarsi un attimo e accoglierne di nuove. Gemelli Amore Una nuova settimana del mese che vi regalerà tante emozioni e vi sentirete anche abbastanza felici e ottimisti nei confronti del domani. Tutto bene non solo per le coppie, ma anche per chi è solo e vuole fare una nuova amicizia. Le nuove conoscenze potrebbero essere dietro l'angolo e magari l'incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa in più. Lavoro Potrebbero essere dei giorni con qualche cambiamento in ambito lavorativo. Le energie ci saranno e saranno tutte da sfruttare perché i cambiamenti a volte sono difficili da sostenere e complicati da affrontare. Cancro Amore Questi nuovi giorni di giugno saranno entusiasmanti e ricchi di emozioni forti e speciali per ogni tipo di rapporto personale. I single però potrebbero avere qualche ripensamento, qualche preoccupazione. Chi farà nuovi incontri potrebbe essere molto selettivo nei riguardi della persona che vuole al suo fianco. Lavoro Professionalmente potrebbe giungere una vera e propria svolta e le occasioni per avere delle novità importanti non mancheranno. Sicuramente sarà importante fare alcune valutazioni. Leone Amore Durante questa nuova settimana del mese sarete al centro dell'attenzione delle persone che avete al vostro fianco. Questo sarà un momento importante soprattutto per chi è single perché le stelle vi renderanno molto attraenti. Anche il vostro carattere farà la sua parte. Lavoro Non saranno proprio dei giorni semplici in ufficio perché avrete molti pensieri per la testa. Forse avrete il timore che le cose non andranno per il verso giusto. Ogni tanto ci sta pure. Ricordatevi che la determinazione conta molto e questo vi servirà per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Vergine Amore Per voi saranno delle giornate in cui potersi dedicare davvero tanto all'amore, ai propri affetti. Chi è single potrebbe approfittare delle stelle di questo periodo per fare delle conoscenze nuove che possano regalare qualche interessante emozione in più. Lavoro Occhio a come gestirete le vostre entrate e le vostre uscite di tipo economico. In ufficio, con impegni e progetti, le cose dovrebbero proseguire bene. Potreste decidere di dedicarvi di più alle idee che volete mettere in atto per il vostro futuro lavorativo. Bilancia Amore Per voi questa sarà una settimana in cui avrete una vera e propria connessione con la vostra dolce metà, con grande affinità e con tanto feeling. Le emozioni saranno forti e piacevoli per le coppie. Il single potrebbe impegnarsi di più con la sua vita sociale, che servirà anche per poter fare delle conoscenze nuove. Lavoro La settimana lavorativa potrebbe essere ricca di novità. Innanzitutto potrebbero arrivare delle nuove offerte professionali che potrebbero rendervi soddisfatti e felici. Ovviamente ci sarà la necessità di fare delle valutazioni e scegliere ciò che può far filare tutto liscio, oltre che portare ottime gratificazioni e risultati. Scorpione Amore Questa nuova settimana del mese di giugno sarà ricca di cambiamenti e modifiche per i rapporti personali, anche per tante coppie che magari stanno insieme da molto tempo. Probabilmente bisognerà fare qualche scelta, prendere una decisione importante e farlo con equilibrio e per se stessi sarà importante. Così poi sarà anche molto più semplice godersi le emozioni. Lavoro Professionalmente saranno dei giorni interessanti, con una luna che vi sosterrà a pieno e vi aiuterà con i vostri accordi professionali. Potrebbero esserci colpi di fortuna e anche delle situazioni nuove per quanto riguarda il lato economico. Tagittario Amore A livello sentimentale le stelle vi doneranno davvero una buona dose di romanticismo, da poter godere assieme al partner o con una persona speciale. Magari con una nuova conoscenza perché single. Alcuni rapporti potrebbero trovare una passione che sembrava essere un po' perduta ultimamente. Lavoro La settimana in corso potrebbe essere incoraggiante e sorprendente per il vostro lavoro. Le occasioni professionali potrebbero essere davvero dietro l'angolo, ma ovviamente ci vorrà un certo impegno. Capricorno Amore Potrebbero essere dei giorni abbastanza complicati con il partner, con un membro della famiglia oppure con una nuova conoscenza per chi ancora solo sentimentalmente. La settimana in corso vi farà riflettere molto e sicuramente sarà molto importante trovare delle risposte, avere delle nuove consapevolezze per vivere meglio il vostro rapporto d'amore. Lavoro Per il vostro lavoro sarà un periodo in cui potrebbe spuntare una occasione importante da cogliere al volo. Uno di quei treni che passa poche volte nella vita. Non è detto che sarà facile e infatti qualche problema potrebbe comunque spuntare. Acquario Amore 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 Lavoro Amore Amore Grazie a tutti.